A Campolofeno si sono conclusi i lavori sulla strada provinciale 25 relativi alle opere e accessorie. È stato infatti ripristinato il manto stradale danneggiato durante la frana e con il rifacimento della segnaletica orizzontale, la situazione è tornata ora alla completa normalità. La fine dei lavori e la rimozione del semaforo consentono di superare anche le restrizioni alla viabilità e da oggi la strada torna ad essere percorribile senza limitazioni orarie. L'intervento è stato finanziato per 650 mila euro dalla regione toscana. Si è trattato di un'opera importante e complessa, ha sottolineato la presidente della provincia Marida Bessi, che vorremmo, dice, poter estendere su tutto l'anello occidentale.